Spreco, errori, rischi, recriminazioni e tanti, tantissimi rimpianti. Tutto in 90 minuti. Dopo il Monterosi e il Latina anche la Juve Stabia rimonta due gol. Di certo con Zeman non ci si annoia, ma resta la certezza di aver perso due punti. Almeno quattro clamorose occasioni da gol non concretizzate. Due da Merola, una da Brosco e Lescano, autore tuttavia di una doppietta. Finale incerto. Pandolfi migliore in campo timbra all'incrocio, mentre in pieno recupero allo stesso Merola viene inspiegabilmente annullata la rete della 3-2. A fine match si parla di fallo di mano dell'attaccante. Le immagini non chiariscono, ma nel post-gara l'arbitro Zanotti della sezione di Rimini avrebbe ammesso l'errore. Ancora prematuro ci mancherebbe esprimere un giudizio fin anche parziale del lavoro di Zeman. È sicuramente piaciuta la mentalità propositiva, la prima impressione, la ricerca continua della verticalizzazione. Il movimento senza palla di mora che riceve da De Sogus e ricama per il colpo di testa vincente di Lescano è la classica richiesta del Boemo alle mezziali. Tutti aspetti da confermare e naturalmente da migliorare. Oltre ai gol, i biecazzurri hanno creato tantissimo senza finalizzare. Di qui i rimpianti, senza dubbio giustificati. Sul piano tattico, Pescara ha ordinato nel primo tempo molto meno nella ripresa. Tanti duelli pericolosi in campo aperto, squadra lunga, come si diceva, sciupio esagerato negli ultimi 16 metri, ma anche poca attenzione in fase di non possesso ed errori individuali nel retrovie. Per Boben altro pomeriggio da dimenticare. Sul 2-1 non deve rompere la linea per affrontare Silipo. Sul pareggio, De Campani decide improvvidamente di intervenire in anticipo su Zigoni, che spalle alla porta, invece di controllarlo. Si tratta della terza rimonta, con due gol di vantaggio subita all'Adriatico. Era già accaduto contro Monterosi, biecazzurri ridotti in 10 per l'espulsione di Giabba e Latina. La quarta, se consideriamo il match col Giuliano, terminato due settimane fa 1-1. Pescara in 10, Rosso a Plizzari e Rete di Sorrentino, allo scadere del recupero. Di fatto, 8 punti lasciati per strada.